La più grande tragedia non provocata dalla guerra mai accaduta in Italia sino a quel momento. All'alba del 16 settembre 1959 un palazzo di cinque piani, costruito appena un anno prima, crollò in via Canosa a Barletta, uccidendo 58 dei suoi 71 abitanti. Le indagini successive rilevarono difetti strutturali e fondamenta quasi inesistenti, dal momento che l'edificio poggiava sui vecchi muri di un deposito di autobus. I costruttori avevano autorizzato altri tre appartamenti, oltre ai 17 previsti dal progetto iniziale. Una tragedia della mala edilizia che scosse fortemente l'opinione pubblica dell'epoca, finendo sulle cronache nazionali ed internazionali. Questa mattina il gruppo di lavoro che riunisce le famiglie delle vittime, il comune, la prefettura, le associazioni del territorio ed una delegazione studentesca dell'istituto comprensivo Mennea hanno reso omaggio alle 58 vite spezzate dal crollo attorno alla stile che riporta incisi i loro nomi. È un dovere istituzionale ricordare le 58 vittime del crollo di via Canosa, così come è importante ricordare a noi stessi che la mala edilizia che ha segnato purtroppo in diverse situazioni la nostra città non debba più albergare la nostra città. Quindi noi ricordiamo queste vittime per ricordare a noi stessi che dobbiamo essere attenti nella gestione del costruito barlettano. Il monito che arriva dal passato sia da sprone per la definizione di un nuovo piano urbanistico generale in cui possa trovare sempre meno spazio la cementificazione selvaggia del territorio. In assenza di uno strumento urbanistico totalizzante che guarda al panorama complessivo dell'abitato di Barletta possono spuntare ancora delle situazioni difficili poi da raccontare come successe appunto per il fabbricato in via Canosa numero 7 che collassò dopo essere stato costruito sul nulla e aver avuto anche l'autorizzazione di un sopraelevato per cui praticamente ad una manchevolezza originaria si aggiunse anche un abuso successivo. 58 vite spezzate, 12 che rimasero feriti ma che poi sono periti successivamente, che lanciano un monito soprattutto alle più giovani generazioni ma a noi che testimoniamo il presente. Il dramma di via Canosa venne preceduto dal crollo di via Magenta del 1952, i morti furono 17 e seguito dal crollo di via Roma del 2011 in cui persero la vita cinque giovani donne. L'impegno delle istituzioni è che Barletta in futuro non debba più vivere altre tragedie della male edilizia. E' importante tenere vivo il ricordo, è importante tenere vivo il ricordo di una tragedia, il dolore che un'intera comunità ha provato, sono valori intorno ai quali si crea la sensibilità e la comunità di una città e sono valori che mettono nelle condizioni tutti i cittadini e soprattutto chi ha la responsabilità di amministrare una città, di poter dire attraverso questi gesti non avverrà mai più, che è quello che noi auspichiamo e quello che noi vogliamo perseguire.